Avvocato, ma come sei vestito? Niente qui proviene dal mondo delle modernità. Ciò che non esisteva nell'anno 1000 non esiste nel regno. Nell'ora della fine nominò mio figlio Giacomo, erede al trono e mio successore. Perché papà ha lasciato tutto a me? Ma perché ha lasciato tutto a me? Ma perché ha lasciato tutto a me? Ma perché mi ha lasciato tutto a me? Ma che cazzo ve ne frega? Un regno medievale sulla salaria. Sire! L'avete preso in più a petto, Sire? È un miracolo. È un miracolo sì. Io tiro la freccia da là e tu esci dall'altra parte. Me ne accorgo, no? Ha sentito il testamento? Se crepano diventi proprietario di tutto quanto. Ammazzamoli tutti. Gli debbiamo la capoccia. Come era vista l'omosessualità nel regno di mio padre? Io l'avevo capito, sai? Ma che è? Cari froci. Adesso io paro subito un editto per far diventare tutti i froci, così se davamo il pensiero... Avvocato, non è proprio giornata, eh? Oddio, oddio, avvocato, lei si è perso Francesco Totti. Chi?